Sì, siamo qui con il mister dell'Acri Mancini. Mister, molto nervosismo negli ultimi minuti. No, 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 ma era secondo me una cosa, un nervosismo ingiustificato perché una parola ne segue un altro, però sia mister Galatti che peraltro Ciccio è un mio amico, abbiamo cercato di sedare anche ora, stavamo parlando in maniera animata con i giocatori ma stavamo chiarendo tante cose, da questo punto di vista non ci possiamo lamentare, abbiamo visto anche il computo degli ammoniti in campo, è stata una partita maschia ma molto corretta. Forse qualche parolina di troppo con il presidente del Siderno, Salerno? No, ma questo è anche un po' di adrenalina che sale e queste sono parole che forse danno fastidio, poi se le vai un pochettino anche a chiarirti alla fine risolvi i problemi. Un primo tempo quasi perfetto della sua squadra, una difesa quasi perfetta, poi è arrivato quel gol agli ultimi minuti, quanto ha pesato? È stata comunque una gara perfetta da parte dei miei, abbiamo cambiato modulo per un'esigenza dovuta alle squalifiche e agli infortuni, avevo gente che non stava benissimo anche dal primo minuto in campo, però non posso rimproverare nulla, i miei ragazzi perché il Siderno si è fatto una sola parata, c'è stato peraltro su un calcio piazzato dove un mio uomo ha perso la marcatura. Come mai criniti in panchina dal primo minuto? Perché evidentemente la vedevo in maniera diversa, oggi avevo anche Vallone che non stava al meglio, quindi preferito rischiarlo dall'inizio e casomai non perdere un cambio. Direttore Curtale, un pareggio che è arrivato in extremis, ma un gioco del Siderno che nella prima parte di gara ha un po' lapitato, che cosa è successo alla squadra? È successo che quando regaliamo gol all'avversario è normale che la partita si mette in salita, siamo stati bravi a dare lo spunto all'Acri per andare in vantaggio, poi ci siamo ritrovati a rincorrere sapendo che è un'ottima squadra e quindi una volta che si trova in vantaggio per noi sarà più difficile raggiungere il pari. Quindi sinceramente eravamo preparati a non subire perché sapevamo che ci poteva essere questa difficoltà, purtroppo siamo andati a punti di svantaggio con il nostro errore e a quel punto tutto è diventato più difficile. Voglio ribadire che siamo stati bravi a non dare il fianco all'avversario per le loro pericolose ripartenze e poi siamo riusciti, penso meritatamente, a raggiungere un pari che secondo me è più che meritato. Con il cambio di modulo poi nel secondo tempo la partita è sempre a essere cambiata, avere il Siderno, bene Coris, bene Fuda, un po' meno bene ai Dibi a centrocampo, lo stesso Panetta che hanno latitato nella prima frazione. Sì, sì, come ti avevo detto prima della gara, noi nella zona nevrolgica del campo abbiamo schierato contemporaneamente ai ragazzi del 2000 e del 99, sapevamo che potevamo pagare qualcosa per quanto riguarda l'esperienza e altro, però siamo convinti di puntare su questi ragazzi, hanno fatto un'ottima partita, secondo me poi alla fine tutti hanno meritato la sufficienza perché solo una squadra compatta e coesa riesce a raggiungere pure se all'ultimo minuto il pareggio.